E' stata approvata in aula la proposta di risoluzione del PD legata al piano rifiuti di economia circolare. Questa era collegata alla comunicazione dell'assessore all'ambiente Monia Monni e respinge gli atti presentati dalle opposizioni. Questo piano vuol agevolare l'obiettivo dell'economia circolare, vale a dire un'economia che si rigenera da sola. Si tratta di una sfida prima di tutto culturale da affrontare con attrezzi nuovi, se così si può dire, che il piano vuol prevedere, ma anche recuperando abitudini vecchie, che erano quelle dei nostri avi che avevano appunto l'idea di non gettare niente di ciò che poteva essere riutilizzato e continuare ad avere una utilità. Questo piano sarà un piano che dal punto di vista della dotazione impiantistica vorrà utilizzare anche nuove e moderne tecnologie per superare, e la cosa doveva essere anche già avvenuta più di quanto lo è oggi, l'utilizzo delle discariche per limitare al massimo l'utilizzo dei termovalorizzatori, per trovare invece le modalità per cercare di riciclare, di riutilizzare il più possibile di quello che fa parte dei rifiuti. Ovviamente ci sarà anche una modalità nuova, un approccio che rende questo piano assolutamente non dirigista, perché attraverso un bando saranno raccolte anche delle disponibilità, delle proposte provenienti da aziende pubbliche e private per la realizzazione di impianti di smaltimento e di riutilizzo. Ovviamente questo non vuol dire che c'è una cessione nei confronti del cosiddetto mercato, di quella che invece è una modalità e una prerogativa che deve rimanere saldamente in mano alla regia pubblica. Oltre a questo un'attenzione particolare sarà rivolta al tema delle tariffe e per quanto riguarda questo è importante anche vedere quali saranno le risorse che il sistema sarà capace di catturare anche per fare investimenti, per realizzare impianti, insomma per non far gravare la realizzazione dei medesimi sulla tariffa così come invece accadrebbe perché prevede la legge. Occorre anche una forte celerità per quanto riguarda l'approvazione di questo piano, ma occorre anche una forte condivisione con i territori. Noi come Partito Democratico abbiamo nella nostra risoluzione anche sottolineato questo aspetto, collaborazione tra Giunta e Consiglio, ma anche una forte connessione con i territori, che dovranno dire la loro, che dovranno fare le proposte, che dovranno anche impegnarsi a garantire un po' l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti, che è un principio fortemente ambientale ma anche democratico. Più che il piano dei rifiuti si tratta di un piano dell'economia circolare, è un'inversione di tendenza positiva che cogliamo con grande favore, che sosteniamo perché siamo convinti che la Toscana debba essere una regione innovativa in temi di rifiuti, non soltanto nella raccolta differenziata. Gli obiettivi che ci si pone sono ambiziosi, quelli dell'85%, qualche comune è già in grado di farlo, quindi sono obiettivi realistici, plausibili, possibili, realizzabili. E poi serve riciclo, serve ovviamente riutilizzare la materia, fare economia circolare. Colgo un elemento di grande positività, si va verso la chiusura delle discariche e allo stesso tempo verso la possibilità che i privati possano giocare una partita importante dentro una manifestazione pubblica di interesse che deve essere svolta a livello regionale e con procedure semplificate per quanto riguarda anche l'approvazione del prossimo piano dei rifiuti. Quindi vedo in questa comunicazione degli elementi positivi che tra la via sosterrà, monitorerà e soprattutto cercherà di rendersi protagonista per intercettare le risorse comunitarie per fare in modo che poi questo che è orse oggi visto come un libro dei sogni possa diventare realtà. La comunicazione è stata estremamente stringata e c'è da dire una cosa in positivo, che la maggior parte dei principi, delle linee guida che sono esposti riprendono pedissequamente quello che noi per cinque anni come Movimento 5 Stelle abbiamo sostenuto riguardo l'economia circolare, l'ambiente, il no agli inceneritori, alle discariche, quello che insomma ci chiede l'Europa. E poi ci sono tutti i lati però negativi, il netto ritardo con cui è arrivata questa comunicazione e sta arrivando il piano rifiuti perché queste sono ancora soltanto delle linee guida, il fatto che ancora ci sono dei fumosi e preoccupanti riferimenti ai termovalorizzatori, anzi chiamiamoli inceneritori, così come vengono detto quando si parla di tecnologie alternative con cui fare la fase di transizione e soprattutto non c'è stato detto le metodologie, i dati, i parametri e i risultati da raggiungere e in quanto tempo. Quindi questo a noi sembra ancora purtroppo un libro dei sogni, quando in realtà la Toscana da tempo sta aspettando un piano rifiuti serio che contribuisca davvero alla transizione ecologica, all'economia circolare e soprattutto non secondario ad abbassare le tasse su rifiuti a tutti i cittadini. Intanto siamo in ritardo di più di qualche anno, scorsa legislatura abbiamo aspettato per cinque anni il piano rifiuti e non è arrivato, siamo indietro su tutto, sappiamo che siamo la terza regione in Italia per tariffe, quindi i cittadini toscani sono quelli che pagano tra i più alti in Italia il costo dei rifiuti, sappiamo che in questa comunicazione si dice tanti no, ma non riusciamo a capire come riusciamo a poter superare la fase transitoria che va da oggi a poi cercare di aprire questo mondo del riuso e della rivalorizzazione di quello che è il rifiuto e che è giusto iniziare a chiamare materiale e quindi abbiamo qualche dubbio su come si riesca a superare le discariche, che è il grande nodo della Toscana, oltre il 30%, il 34% dei rifiuti va in discarica, l'Europa ci dice che dobbiamo rimanere sotto il 10%, ricordo che la discarica è di fatto l'impianto più inquinante e non lo diciamo noi, lo dice la comunità europea e non sappiamo tra questo passaggio e quello dove vuole arrivare l'assessore Monni come si farà ad andare a smaltire i rifiuti. Già oggi noi andiamo a portare tantissimi dei nostri rifiuti urbani fuori dalla regione toscana per smaltirli, questo significa aumento di tariffa, si dice no a nuovi termovalorizzatori, questo lo dice l'assessore, per poi essere contraddetto da una risoluzione del PD che invece dice sì, dove servono vanno riportati e vanno rimodernizzati quelli già esistenti, ecco io credo che ci sia una grande confusione interna al PD. Tra l'altro non si parla di governance che invece è una cosa molto importante perché secondo noi sarebbe il caso di rimettere al centro i comuni, gli amministratori e i cittadini, altrimenti rischiamo di arrivare a fare quello che la Giunta vuole che è quello di accentrare tutto il potere su se stessa e lo sta cercando di fare anche tramite delle proposte di legge che sarebbero poi volte a esautorare il Consiglio delle proprie competenze. Noi abbiamo già detto che su questo non ci stiamo, la programmazione spetta il Consiglio da Statuto e noi pretendiamo che la discussione sia ampia, partecipata il più possibile e che sia anche rivista rispetto alla comunicazione che è arrivata oggi perché pensiamo che troppi siano i dubbi e troppe poche le risposte che arriverebbero sui territori ai nostri cittadini. Ma è l'ennesima battaglia nella guerra delle parole, si parla di transizione ecologica, il piano dei rifiuti cambia nome si chiamerà il piano dell'economia circolare, ma nella sostanza non si è capito noi, ma non hanno capito i toscani e le imprese toscane dove dovrebbero andare i rifiuti, come si farà a diminuirne la produzione, come si farà a migliorarne il riciclo e nella fase di transizione rispetto alla creazione dei richiamati, nuovi impianti di quarta generazione e non si è capito bene cosa dovranno essere, che cosa si farà di quella percentuale di rifiuti che non è riciclabile e che quindi dovrebbe in qualche modo essere trasformata in energia. Peraltro si continua a rinviare la chiusura delle discariche, ad oggi la Toscana conferisce ancora il 35% dei rifiuti in discarica, cioè sostanzialmente mette il proprio sporco sottoterra, determinando così un inquinamento ambientale che è purtroppo diffusissimo e soprattutto continuando a non avere un piano dei rifiuti lascia aperte le porte a infiltrazioni anche malavitose, così come è stato certificato dalla Commissione parlamentare sulle infiltrazioni mafiose già nel 2018. Manca una strategia di fondo e soprattutto non ci convince né il tentativo di escludere il Consiglio regionale da tutta la partita della pianificazione degli impianti né si è capito come si intendano coinvolgere gli enti locali che svolgono invece una funzione fondamentale nel rapporto con i cittadini. Infine i nuovi impianti di quarta generazione si dice, senza specificarne la quantità e l'ubicazione, i costi graveranno ancora sulla tariffa, quindi la Tari con questo fantomatico piano sarà destinata a aumentare nuovamente mentre in realtà non si danno risposte nell'immediato per i cittadini e per le imprese. La clinica di riabilitazione toscana di Terranova Bracciolini è il punto di riferimento per le attività di riabilitazione funzionale di tutta la Toscana meridionale. I risultati e gli obiettivi di medio e lungo periodo sono stati illustrati in Regione Toscana. Allora, dentro questo centro di eccellenza si svolgono diverse attività di ricerca in ambito della riabilitazione, e quindi c'è la volontà di sperimentare nuove metodiche di riabilitazione che portano ai pazienti migliori cure e percorsi più efficaci. Il messaggio che noi vogliamo lanciare è che l'attività che viene svolta presso il centro è un'attività di tipo traslazionale, quindi essenzialmente orientata a produrre dei risultati che siano in grado poi di migliorare i percorsi di cura dei pazienti. Per questo motivo utilizziamo degli strumenti innovativi che sono finalizzati e ad individuare nuovi metodi diagnostici e a sviluppare nuovi training riabilitativi che siano specificamente indirizzati verso le difficoltà che un paziente può presentare in seguito ad una lesione cerebrale acquisita. Ci tengo a dire che la professionalità e la collaborazione è proprio il nucleo su cui si fonda la nostra attività e questo sempre con l'obiettivo di migliorare le prospettive terapeutiche dei nostri pazienti e da questo punto di vista la ricerca costituisce un potente veicolo. Ciò appunto è in considerazione del fatto che fare ricerca migliora la qualità dell'assistenza che viene offerta al paziente perché costringe ad un confronto continuo anche con le altre strutture che a livello internazionale operano in ambito riabilitativo e con le quali abbiamo stabilito delle collaborazioni nei nostri protocolli di studio. Come Presidente del Consiglio di Amministrazione sono abituata a leggere numeri, quindi risultati dei bilanci. Quando ho cominciato invece a aiutare a formulare il testo per il bilancio sociale mi sono resa conto che non è un discorso solo amministrativo ma è anche un discorso che riguarda come il paziente viene considerato all'interno del centro e è il centro delle attenzioni per fare più possibile sì da un punto di vista medico ma anche da un punto di vista logistico. Tanto che abbiamo fatto dei lavori per cui non è più il paziente che si sposta per andare a fare la riabilitazione ma è il riabilitatore che entra in reparto e fa quello che deve fare. È un'eccellenza? Sì, è un'eccellenza perché c'è questo interesse particolare, questo volere in tutti i modi fare del paziente il centro di tutte le attività. È un centro di eccellenza perché rappresenta uno strumento irrinunciabile nell'evoluzione che sta vivendo in questo momento lo studio del cervello. È un interesse straordinario che le neuroscienze hanno nei confronti della riabilitazione. La riabilitazione sarà inevitabilmente trascinata dall'evoluzione delle neuroscienze. Questo secolo ambisce attraverso le neuroscienze a ripercorrere le grandi scoperte del secolo breve. Piuttosto cito la teoria della relatività, piuttosto che la fisica quantistica, piuttosto che la decodifica del DNA. Ecco, questo secolo vedrà, né se la comunità scientifica ne è convinta, una descrizione dettagliata del funzionamento del cervello, della sua quindi organizzazione riduzionistica e integrata. Tutto questo ha bisogno della ricerca. È un punto di riferimento fondamentale perché nel centro di Terranova Bracciolini noi abbiamo un momento di ricerca, un momento di sperimentazione, un momento di presa in cura accurata, strettamente integrato nei percorsi delle persone e in una fase particolare di fragilità della vita. Vi sono tanti progetti insieme a loro, progetti sul campo. Questi due anni di Covid ci hanno insegnato che la ricerca è fondamentale soprattutto fatta sul campo. Il Covid ci ha insegnato a imparare sul campo e questo è quello che viene fatto al centro da sempre. Grazie per la visione!